Ciao ragazzi e bentornati in questa nuova Top 10 Blue, quest'oggi vediamo la vostra classifica dei film preferiti di David Fincher. Chiaramente nel mio caso avevo parlato anche di Mindhunter, House of Cars e via discorrendo, quest'oggi invece ci concentriamo prettamente sui film e quindi non perdiamo troppo tempo partendo dalla decima posizione per Uomini che odiano le donne. Da parte mia è un altro film assolutamente bello, però appunto è tra i miei non preferiti visto che è l'unico di cui non ho parlato nella Top 10. Ho escluso anche Alien 3, se avete visto il video sapete che ho fatto anche lo scherzetto, se no ve l'ho spoilerato, però comunque è l'unico film di cui effettivamente non ho parlato. Siccome la filmografia di Fincher si compone per ora di 11 film è abbastanza semplice recuperarli tutti. Altro film che apprezzo sicuramente e se non avessi fatto quella cosa del parlare un po' anche delle produzioni di Fincher sarebbe stato decimo, escludendo quindi soltanto Alien 3. Nona posizione per il cult The Game, film eccezionale che secondo me merita di avere una gran pubblicità oggi. Siccome parliamo di un film che ha qualche anno, ma che conta nel cast personaggi del calibro di Sean Penn e Douglas, poi Fincher è esploso completamente, aveva già fatto qualche film importante prima, ma dopo è diventato un nome ancora più importante e rispettabile. Quindi ragazzi è un film che vi consiglio di recuperare assolutamente. Ero convinto di vedere Manc più in alto perché è soltanto ottavo. Va detto che tra anche settima e sesta posizione se la giocavano stavano lì lì. Per una manciata di punti potevano essere tranquillamente invertiti, quindi comunque è quasi una sesta posizione se vogliamo. La settima posizione se la prende un altro film poco conosciuto come appunto lo è secondo me The Game, vale a dire Panic Room, film monumentale dal punto di vista della tensione che riesce ad innescare. È un thriller con i controones. Poi nella Top 10 Orange non ho detto il caso, parlo solo di Jodie Foster e Kirsten Stewart, ma ci sono anche appunto Jared Leto e Forrest Whitaker, l'attore che ha interpretato fra gli altri film The Butler. Andiamo avanti con la classifica in cui vediamo il curioso caso di Benjamin Button, film incredibilmente famoso, secondo me appunto è il più commerciale di Fincher nel senso che è il più adatto alla massa e appunto anche quello meno violento di conseguenza lo possono vedere anche persone più giovani, di conseguenza è un film un po' più universale da questo punto di vista che non è un difetto. Brave break ragazzi, mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi e commentate. Approfittatene adesso e riprendiamo con il video. Invece in quinta posizione troviamo il mio adorato Gone Girl, l'amore bugiardo. Il film con protagonisti Ben Affleck e Rosamund Pike è un film che adoro, mi piace tantissimo il montaggio, il twist che c'è a metà film, mi piace tantissimo la color, la fotografia che c'è, che è un po' a richiamare soprattutto la prima parte della televisione, questo effetto un po' televisivo, una fotografia abbastanza morbida, con tante scene tendenti al colore giallo, il giallo è un colore che Fincher utilizza molto spesso nei suoi film, ci sono sempre scene molto calde con questo giallo piuttosto pronunciato, vabbè. È sceso un po' rispetto alla mia posizione, ma non è un problema. Quarta posizione, medaglia di legno per Zodiac. Posizione di tutto rispetto, quindi comunque si parla di una medaglia di legno, ci sono state adesso le Olimpiadi e sappiamo che a volte è giusto festeggiare anche un quarto o un quinto posto, anche se non c'è la medaglia. Poi diciamo che la mia classifica non ha l'importanza di un'Olimpiade, però va bene. Invece terza posizione e medaglia di brozzo per Fight Club. Qualcuno di voi forse se lo aspettava primo, invece lo avete tutti messo abbastanza in alto, ma poche volte in prima posizione, quindi questo l'ho portato ad essere soltanto terzo. Seconda posizione invece e medaglia d'argento, troviamo il film che io avevo messo in prima posizione, vale a dire The Social Network. Pazzesco, con un cast di tutto rispetto e una recitazione molto sopra la media, secondo me. Un biopic veramente ben confezionato e riuscito. E se fate la conta di quelli che mancano, ragazzi, prima posizione e medaglia d'oro per Alien 3. Sto scherzando di nuovo, ovviamente, ragazzi. Prima posizione per Seven. E ragazzi, merita di starci? Sì, come ho detto l'altra volta, i primi cinque film sono abbastanza sovrapponibili. Per me sono tutti ugualmente belli e molto diversi. Di conseguenza è facile preferirne uno piuttosto ad un altro. Come miglior commento della settimana ho deciso di premiare una new entry, vale a dire Veronica con la sua personalissima top ten. Complimenti Veronica e grazie a tutti quanti voi che avete commentato, ragazzi. E anche questa top ten blu è finita, ragazzi. Mi raccomando, commentate e lasciate un like. Noi ci vediamo presto con altri video. YouTube.